Per tre ragazzi cresciuti in comunità, case famiglia e affido familiare, da oggi qualcosa è cambiato. A Lido Adriano sono stati inaugurati due appartamenti in cui i tre neomaggiorenni da oggi in poi potranno sentirsi a casa. In via Lovideo, a Lido Adriano, alla presenza dell'assessora, ai servizi sociali, casa, ai politiche giovanili, Valentina Morigi, funzionari del comune e i volontari dell'associazione Agevolando, è stato tagliato il nastro rosso. Non si tratta di un progetto pilota. Casa Dolce Casa, realizzato dall'associazione Agevolando, con l'attività di housing sociale, è già attivo in un appartamento a Fusignano, dove, con ottimi risultati, sono stati accolti dieci ragazzi. Sempre nella provincia di Ravenna è attivo anche lo sportello Link, al centro giovanile Quake, per offrire consulenza e supporto a questi giovani, che superata la maggiore età, si trovano a dover affrontare la vita e le sue difficoltà senza nessuna rete parentale che li possa aiutare. Con enorme entusiasmo e anche soddisfazione posso dire che oggi c'è stata l'inaugurazione di questa casa che vedete alle mie spalle, sono due appartamenti che ci ha donato il comune incomodato d'uso. È una gran soddisfazione perché questo progetto accoglie dei ragazzi neomaggiorenni, che sono proprio quei ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati una volta finito i percorsi in comunità o famiglie in affido. In questo progetto io ci tengo molto a sottolineare che non è un progetto basato sull'assistenzialismo, ma sul protagonismo dei ragazzi, in quanto qui vengono accolti ragazzi che hanno dei percorsi già avviati lavorativi, che può essere sia tirocini lavorativi oppure dei lavoretti occasionali o anche ragazzi con contratto a tempo determinato o indeterminato. Quello che vogliamo fare, semplicemente noi volontari, è accoglierli e offrirgli anche un appoggio da punto di vista relazionale, perché penso che non sia importante solamente avere una casa, avere un domicilio, avere un lavoro, ma anche sentirci accettati, sentirsi accolti e sentirsi integrati in un territorio che spesso, soprattutto per i ragazzi stranieri, è abbastanza ostile. I ragazzi che noi ospitiamo sono soprattutto minori stranieri non accompagnati, in questo caso sono tre ragazzi. Quello che ci fa piacere e anche onora noi volontari è che praticamente diventiamo un po' una sorta di nuova famiglia dove ci sosteniamo a vicenda, sia loro a noi che noi a loro. L'associazione Agevolando collabora con la nostra amministrazione già da qualche anno, abbiamo aperto un paio d'anni fa uno sportello per aiutare i giovani che escono dalle case famiglia, che sono qua senza genitori, senza rete parentale, senza rete di appoggio e il passaggio subito dopo lo sportello, quindi intercettati i bisogni che fondamentalmente sono il bisogno di casa, il bisogno di lavoro, il bisogno di una rete di supporto alla quale affidarsi, abbiamo immaginato questo progetto, cioè concedere all'associazione una casa dove i neomaggiorenni che escono dai percorsi protetti e dai percorsi di comunità e di case famiglia possono trovare una nuova casa e condividere nella quotidianità l'esperienza del sostegno, della cura reciproca, alla ricerca di una loro strada. Abbiamo trasformato quello che è un problema, un maccigno grave da portare come la solitudine dei minorenni, dei minori in una potenzialità invece, l'unione fa la forza e mettersi insieme, vivere insieme, affrontare giorno per giorno, cercare giorno per giorno di costruire la propria identità e la propria vita. Signora Rosella, grazie a lei a Fusignano vi è un'altra casa in cui vivono dei ragazzi, una grande casa in cui vivono un gruppo di ragazzi. Lei come volontaria come si è attivata e perché ha scelto di aiutare appunto questi giovani? Sì, ho scelto questo progetto perché è un progetto nel quale credo tantissimo, perché vedevo tanti ragazzi uscire dalle comunità di minori e al diciottesimo anno si trovavano così, dispersi in mezzo a una strada, quindi sì, molto coccolati precedentemente nell'ambito delle comunità, però poi a 18 anni sei ancora un ragazzo giovane che deve fare delle esperienze, deve fare delle scelte, soprattutto di vita. e quindi secondo me avere già un appoggio abitativo e quindi anche un gruppo di volontari che ti sostengono per loro poteva essere una cosa fondamentale per la loro vita, quindi per il loro futuro, diciamo così. Quindi io ho messo a disposizione appunto questo appartamento dove attualmente abbiamo sei ragazzi che vivono lì insieme, preparano da mangiare, accudiscono la casa, accudiscono il giardino, fanno un po' i lavori domestici, diciamo così. Io sono molto contenta di vedere appunto questi ragazzi che lavorano, fra l'altro, quindi sono stati inseriti anche in tirocini formativi e nel tempo riboro si prendono cura della loro casa, insomma. I ragazzi devono fare una domanda, quindi conoscere la situazione, farsi conoscere, perché spesso la segnalazione arriva attraverso la rete delle comunità, perché per l'Agevolando è importante essere in rete con tutte le comunità, è un'associazione a parte, indipendente, non è legata a nessuna comunità in particolare, ma è importantissimo che sia collegata con tutte le associazioni, con i servizi del territorio, in modo che nel momento in cui tutti sanno che c'è l'Agevolando e questa opportunità, possono segnalare assieme ai ragazzi, perché sono ragazzi maggiorenni, quindi è un procinto di diventarlo, quindi è importante che ci sia una volontà, una consapevolezza da parte loro di quello che stanno facendo, dove stanno andando e anche che non è semplicemente un vado in affitto, come potrebbe essere da comunque altra parte, ma entro in una casa gestita da un'associazione che agisce per alcuni principi, attività, che sono quelli della partecipazione dei ragazzi e quindi sapere quello che fa, quindi il principio è quello che diventano i ragazzi sia fruitori di un servizio che attori in prima persona aiutando i ragazzi che ci sono per quello che possono e dando una mano, quindi è importante che ci sia un percorso prima, quindi faccio l'esempio a Bologna, noi c'è la frequentazione dello sportello, ma anche qua è così, per parlare, conoscere, farsi conoscere, sia per vedere che siano ragazzi, anche se lì c'è anche un'assegnazione dei servizi, quindi è importante che siano ragazzi che possono stare in un ambiente in cui non ci sono educatori, per cui sono i vicini, c'è la convivenza con altri ragazzi, quindi sia che siano ragazzi in gamba, perché chiaramente è difficile che si possa accogliere ragazzi che hanno bisogni forti, non so, l'attorsico di pendenza, psichiatria, insomma, bisogni ancora forti, allora non è una situazione di questo genere adatta per loro e quindi sia questo e sia loro stessi che siano consapevoli appunto delle situazioni in cui vanno.